ragazzi finisce adesso inter al itiad sto facendo finta di essere tranquilla non lo sono per niente ma in realtà io non so che dirvi cioè non so che cosa dirvi perché in realtà non c'è nulla da dire hai perso 2 a 0 e potresti forse dire questi hanno meritato no non lo posso neanche dire perché in realtà questi hanno fatto tre tiri in porta due gol stop l'inter nel secondo tempo forse non ha fatto neanche un tiri in porta nel primo tempo fino al venticinquesimo io ho detto boh mica sta partita abbiamo abbiamo un temperamento diverso siamo meno sulle gambe rispetto alla partita precedente non lo avessi mai detto non lo avessi mai detto dopo dopo aver preso il gol e anche il secondo gol praticamente che ti ha segato le gambe su un infortunio diciamo così un infortunio di alessandro bastoni perché ha fatto un errore che veramente neanche terza categoria probabilmente però ok carichi di lavoro pesanti ok tutto che va bene tutto ma sinceramente sinceramente poi mi sono girate le scatole ve lo dico chiaramente e non vi dico neanche quello che ho consegnato a ognuno di loro durante la partita perché sprolo quierei e non mi sembra il caso è vero che le amichevoli sono amichevoli è vero che lasciano il tempo che il tempo che trovano ma sono incazzata come una bestia e non lo voglio fare troppo a vedere cioè non voglio troppo esternare perché da re soddisfazione troppo alle male lingue e neanche mi va sinceramente quello che conta ovviamente è il dopo è quello che faremo in campionato quello che faremo in champions league però ragazzi miei un po' più di dignità un po' più di dignità io posso capire che siete sulle gambe che i carichi di lavoro sono pesantissimi che quando non ci sei fisicamente è difficilissimo esserci mentalmente perché quando non ti riescono non ti riesce fare tante cose poi ti imbestialisci diventi diventi insomma un po' irrascibile ti arrabbi e tutto e quindi ti riesce peggio tutto però l'errore di alessandrino bastonino insomma mi ha rotto un po' le palle ve lo dico proprio mi ha proprio rotto le palle detto questo vi giuro non so che cioè come si fa ad articolare a raccontare una partita che non è stata una partita cioè come si fa allora questa partita è stata giocata allora nel primo tempo possesso palla inter i primi 25 minuti praticamente la litiade non ha toccato palla dopodiché è uscita in contropiede e ci ha fatto un gol al primo tiro in porta un gol assurdo sul primo tiro in porta dopodiché l'inter ha cercato in qualche modo di andare avanti ma senza con un tiro di bis che di testa che poteva insomma impensierire abbastanza la litiade nel secondo tempo simone inzaghi ha cambiato tutta la squadra ha fatto entrare parecchi giocatori della primavera e altri giocatori che ovviamente non ci saranno più in rosa e niente un tiro in porta non c'è stato voglio prendere le cose positive di questa partita cerchiamo di vedere le cose positive le cose positive di questa partita sono iambisse che ogni presente avanti dietro su tutti i palloni altra nota positiva di questa partita è come sempre Mkhitaryan che entra e fa la differenza sempre altra nota positiva di questa partita Carlos Augusto anche se se ti sbagli quel gol in campionato io ti mangio la faccia cioè come minimo nota negativissima come sempre Joachim Correa che veramente sembra che faccia un altro sport ma in in modo negativo con un'accezione negativa e Denzel Dumfries allora su tre palloni che ti sono arrivati praticamente sulla in bocca no dentro l'aria da parte di Carlos Augusto almeno mezzo stop decente fallo e poi c'è gente che parla e parla di Denzel Dumfries guarda io veramente sono sono veramente schifata questa sera sono schifata sono schifata questa sera posso dire che sono schifata perché quando l'Inter fa ridere c'è da dire che fa ridere e mi potete dire quello che volete i carichi di lavoro pesanti perfetto si vede che sono sulle gambe si vede che non non ci sono fisicamente tutto tutto perfetto ma col Chelsea io mi aspetto un altro tipo di partita e un altro tipo di approccio mentale so che non è facile perché vi ripeto e vi ribadisco che quando fisicamente non ci stai non ti riesce niente con la testa vai fuori è ok tutto a posto li voglio giustificare anche tutto ok però ragazzi queste prestazioni indecenti siamo l'internazionale l'FC internazionale di Milano siamo i campioni d'Italia sinceramente queste prestazioni qua no 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 a me a me tifosa ma lascia stare a me ma ci sono quelli che sono venuti a Monza in pieno agosto ci sono ci sono quelli che sono venuti a Monza in pieno agosto hanno pagato il biglietto per vedere tutto questo ma pensate di essere arrivati non perché non siete arrivati da nessuna parte cioè che sia chiaro questo è poi altra cosa si vedono ancora di più i problemi che ci sono in attacco mancando Lautaro Martinez Marcus Joram è appena arrivato non abbiamo cambi non abbiamo giocatori in attacco ma questa cosa la stiamo ripetendo all'inverosimile e che vuoi fare Champions League campionato Coppa Italia Supercoppa Italiana Mondiale per Club con Mimì Cocò e Cacà no fatemi capire ora voglio ridimensionare tutto ridimensioniamo tutto per cor grazie cane se ti stai zitto mi fai un gran favore grazie ridimensioniamo tutto è sempre un'amichevole sono molto fiduciosa nonostante tutto l'Inter si sostiene ok però se sono incazzata io lo devo pure dire non è che devo essere sempre difendere a spada tratta se mi hai fatto schifo mi hai fatto schifo e lo dico tutto qua ragazzi non c'è più nulla da dire non saprei che dirvi più sinceramente vorrei trovare altre parole a De Vrij pure che si fa male De Vrij che si fa male per l'ennesima volta nella vita e allora ragazzi veramente noi ci vogliamo dare la zappa sui piedi Francesco Cervici 87 anni Stefano De Vrij che si spacca sempre qua dietro in continuazione tutte le tante volte fa su sette mesi otto mesi due tre mesi li fa fuori cioè insomma ragazzi basta ora però io capisco che non potete spendere capisco tutto quello che caspita devo capire però cazzo siamo l'internazionale di Milano e siamo i campioni d'Italia e che cavolo e dai però ragazzi mi dispiace io anche le amichevole voglio vincere o quantomeno se le perdi però con dignità tutto qua con dignità cosa che l'inter non ha avuto e ha voglia che inventiamo scuse non ha avuto dignità ma poi l'amichevole fisicamente sulle gambe la preparazione atletica tutto quello che caspita voi tu però un briciolo di amore di amore per chi ti è venuto a guardare e ha pagato il biglietto non vi sentite arrivati perché non siete nessuno non vi sentite arrivati perché non avete vinto ancora niente questo che sia chiaro questo che sia chiarissimo ragazzi miei belli vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre la vostra salute vi vuole bene e sempre 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 forza inter perché l'inter si sostiene e domenica contro il celsi si tifa spada tratta e sono sicura che l'inter avrà un altro volto sono certa che l'inter avrà un altro volto condividete il video non sono una giornalista sono un appassionato e si vede pure è come se si vede raga come se si vede